carissime web spettatrici carissimi web spettatori salve buonasera a tutti benvenuti a questo mi scappa la diretta serale siamo ancora in viaggio spero che le condizioni del video siano accettabili sono in viaggio quindi potrebbe anche essere a scatti o cadere del tutto allora volevo aggiornarvi sul nostro viaggio arriveremo come detto prima in diretta telefonica con matteo e fulvio che arriveremo a palermo intorno alle 9 meno 20 9 meno un quarto quindi dove insomma per il momento siamo puntuali speriamo che non ci sia traffico per approcciare la piazza dove ci aspettano bene quindi in piazza palermo immagino che ci sia già tanta gente perché ormai non manca molto beh insomma sono ancora le 8 quindi probabilmente in questo momento non sarà ancora tanta ma arriverà come sempre come sempre avete visto la piazza di trapani era veramente colma colma di gente bene quindi mi raccomando rimanete rimanete sintonizzati andate sul canale la cosa perché alle 21 puntuali anzi spero anche prima qualche minuto prima per qualche intervista vedremo insomma faremo anche qualche intervista prima del dell'incontro di beppe con i palermitani salvo ti si sente come paperino e vabbè sì la connessione quella che mi spia dovrei fare squat poi vediamo un po carissimo non lasciateci ma no che non vi lasciamo ma scherzi dove il video di trapani è il video di trapani dove non lo so sarà credo sulla cosa dovete chiedere a matteo a fulvio dove la registrazione del video di trapani sulla cosa va a scatti ok sono sicuro che presto i problemi tecnici della cosa verranno risolti come si fa a rivedere il comizio di trapani immagino che verrà presto pubblicato un modo come fare lo vedo bloccato vabbè mi dispiace ve l'ho detto la connessione quella che è vediamo se ho letto tutto manca il video di trapani sulla cosa va a scatti carissimo non lasciateci vabbè credo di averli letti praticamente tutti va bene allora io vi saluto per il momento ci vediamo più tardi da palermo con qualche intervista se avremo il tempo e poi con l'incontro di beppe con i cittadini un abbraccio a tutti a più tardi ciao ciao